Oh bella a tutti ragazzi, io sono Canto e un saluto alla Zona Rossa Oggi è il giorno numero 14 di questo di ora di quarantena E il video di oggi è uno spunto più che altro per parlare di una canzone Presente su questo disco Dei Io e Gomma Gommas band di Ancona che La gente della mia età Gentilmente negli ultimi giorni mi ha mandato tutta la loro discografia E una maglietta, aspetta vi faccio vedere la maglietta Eccola qua, fighissima Grazie mille rega, ho apprezzato molto il regalo E' da segnalare che mi hanno mandato il tutto quando ancora ci si poteva muovere Quando ancora non era tutto così chiuso E comunque Io e Gomma Gommas per chi non li conoscesse Sono una band di chiara ispirazione dei Me First e dei Gimmie Gimmies Infatti il loro nome non è altro che un'italianizzazione di questa band americana E proprio come la band americana fa cover di canzoni classiche riproposte in ambito punk rock E all'interno di questo disco che si chiama 50's Morti, 60's Feriti Quindi dove la band rifà brani anni 50, anni 60 C'è una delle mie canzoni preferite in assoluto O meglio Dio è morto Originalmente è scritta da Francesco Buccini nel 1967 E quindi è stata un po' una delle canzoni simbolo del movimento di rivolta che c'è stato nel 1968 E questa canzone è stata un po' coverizzata da tutti quanti Infatti sì, l'originale è scritta da Buccini Però da piccolo io la conobbi per esempio nella versione dei Nomadi E' stata fatta da Caterina Caselli, da Gianna Nannini Insomma un po' tutti l'hanno voluto riproporre a questa canzone Ed è quasi diventata una canzone popolare italiana E i Grigio Gommagommas in questo disco la ripropongono con una bellissima versione punk Che sicuramente stai sentendo in sottofondo Il testo di questa canzone mi ha sempre colpito Per il titolo molto forte Dio è morto da piccolo non pensavo neanche si potesse dire E l'ultima parte di questa canzone te la vorrei leggere Perché credo che possa essere un motivo di buona speranza Per tutto quello che ci sta succedendo in questo momento Ma penso che questa mia generazione preparata A un mondo nuovo e una speranza appena nata Ad un futuro che ha già in mano E una rivolta senza armi Perché noi tutti non sappiamo Che se Dio muore per tre giorni e poi risorge Ognuno si trova in queste frasi il significato che vuole trovarci Io oggi la mia l'ho detto Bella rega, ci vediamo presto Dai Ciao 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 Ciao